Una giornata particolare, una pescata miracolosa, quella di Alessandro Corzi oggi a Portoferraio, guardando proprio il centro storico, il caso ha voluto che avvenisse questo spettacolare ritrovamento. Sì, è vero, è stata proprio una fortuna inaspettata, io non mi sarei mai immaginato di prendere una bestia così, si può dire. Nella pausa pranzo, verso mezzogiorno e venti, sono venuto via da lavorare, a me piace pescare, no? E sono venuto qui a San Giovanni, mi stavo incamminando verso il molo dove c'è l'aerone e a un certo punto ho visto un riflesso sul bagnasciuga, ho visto un po' muovere e ho detto, ma sarà un pesce grosso o qualcosa? Come mi sono avvicinato, ho visto c'era un totano enorme, però questo totano faceva dei movimenti strani come fosse stordito o qualcosa del genere. Niente, cosa ho fatto? Io ho detto, adesso lo prendo. Mi sono levato scarpe e calzini, sono tirato sui pantaloni, ce l'ho fatta diciamo ad aggirarlo e se ne è accorto troppo tardi, ero vicino e l'ho buttato sulla spiaggia, insomma, e l'ho portato via. Quanti chili? 4 chili e 600 grammi, pesato. Soddisfazione enorme? Di più, molto 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 di più, una fortuna pazzesca, un fattore C esagerato. C'è un po' di più, un po' di più.